se ti trovi disorientato ricorda di dare un'occhiata agli indizi che il personaggio disegna nel suo quaderno grazie grazie veramente qua avevamo trovati due cose che dobbiamo allineare i pianeti comunque guardo mio grazie del follow intanto dietro si può vedere cosa c'è a vedi uranio vabbè lo sono gli ultimi e quindi ci manca in teoria a marte e la terra è qua scatta una fotografia bella oddio si è bruciata raga caso sono dei collezionabili cosa è cartellino rosso c'è un fallo non si è salvato questa scena qua aveva artemio con gigina ragazzi si chiamava artemio nel ma da dove parte sta canzone ragazzi coglioni di merda che vi mettete il botte su disco raffanculo ecco dove partiva e diciamo ma che minchia è c'è qualcosa sul muro qua non è che devo scattare la foto nel momento in cui fa da 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 capo minchia lo sapevo abbiamo trovato parte la terra godo non che bello stavosano maria raga io so che mettendo sta cosa che c'è godzilla cincula in bagno così qua ora mettilo sono allineati non tirano questo ma non va ragazzo minchia sono allineati i pianeti mi date una mano un attimo un attimo scopriamo già io qua stavo sbagliando no aspetta qual'era mercurio ecco questo perfetto questo qua prendi tutto qua metti mercurio dove mi chiede mercurio era quel da perché noi girano in continuazione non li puoi vedere mercurio ok questo è giusto e poi abbiamo ah ma era giusto l'avevo messi così poco fa raga questo qui sarebbe saturno senza anelli vabbè e poi c'è uranio e nettuno l'ordine è questo a meno che uranio è l'ultimo e nettuno è il penultimo potrebbe essere così ma già l'avevamo fatto proviamo a scambiare questo magari è tutto al contrario questo cazzo di gioco l'ho fatto artemio il quadro del martello sono riuscì ma vaffanculo a caso però che tutto mi viene così l'inganzo vediamo la porta me questa tre ore ma non c'era una nell'angolo diceva quella nota che avevamo letto ieri che vedeva la nonna qualcuno nell'angolo ok ok un paio di cazze luca cambiamosi con le parole che cazzo è questa bilomena maxwell per lo meno 68 anni un'altra cosa il nonno ha cercato di contattare la nonna con questa cosa ma quindi la nonna era morta il nonno ha provato a contattare la nonna ha evocato medicine in teoria no io non voglio andarci qua ti prego troviamo che ho i brividi ti prego ti prego no 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 non caccherò più nella lettiera ti prego nonna non ma vuoi un selfie volevi se spuntava qualcosa i cacazzi ma qua c'era tipo la foto rossa se non sbaglio ho tuo padre e rosso c'è qualcosa qua non vedo un cazzo no 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 questo è il diario della nonna non mi interessa in teoria catta una foto qua porca puttana l'ho presa l'ho presa meno male che non c'era altro non mi interessa vai avanti apri con calma cattono delle cose maria raga inquietante porca puttana non mi interessa non era la statua no raga ti prego medicine ti prego ma io le devo tutto non tocco un cazzo troppo buio aspetta calma calma cazzo sta succedendo in questa casa vai via vai via vai via porca puttana donna mia raga ma cosa cazzo che gioco è gioco è dai prendi l'altro quadro devi andare a prendere l'altro quadro e poi saliamo la sopra in teoria abbiamo la combinazione dei quadri non so cosa succede dopo qua poi comunque qua c'è una cassaforte che non c'è due cassaforti è un paio di cazzo che ne abbiamo prendi il quadro no no senza dare troppa ansia ti prego mira sopra guarda sopra una volta che salgo di qua è sorpresa e ora abbiamo in teoria i due quadri ma qua in teoria sono tutti li avevamo fatti ma se li avevamo fatti è salvato per questo mettiamo quello rotondo è il nostro com'è che si chiamava questo pasquale cos'altro qui 43 perché c'è uno scarafaggio devo fare di una foto qua penso non ci sia più niente però si è aperta qualcosa raga mi posso sbagliare ma forse la porta dopo l'orologio è reale le combinazioni le foto senza il quadro che tipo di indizio allora 25 13 10 che era l'orologio 100 euro che qua c'è il 5 quindi in qualche modo i due numeri nuovi della combinazione sono quelli e il 43 ce l'abbiamo qua ora il problema è tutti sti numeri cosa minchia devo fare cioè io veramente devo fare 38 a destra tutte ste cose qua molesto 92 cirbix 5 i quadri vanno messi in base ai numeri che hai trovato i quadri vanno messi in base o levo o metto non lo prendo il 43 ma sicuro che è così raga io l'ho completato con l'asciugamano è bravo spero me ne preparo una allora il 56 mettilo nel 13 mi sembrava ho capito ho capito ok quello che dite quindi il 13 mi pare che era questa era 25 memoria di merda memoria di merda lo sapevo che non mi potevo fidare di te il 10 questo qua 10 quindi questo quindi il 13 questo va bene ok quindi qua metto il 56 perché meno teoria ma anche se non ci va un cazzo tu dici proviamo anche se non va un cazzo quindi però in questo caso sottrando e 43 no 13 il 56 meno 13 questo quanti anni ha sto bastardo di merda a queste nel 10 in teoria ne ha 33 più 10 era qua 33 più 10 43 era lui mettilo qua ok quindi qua questo numero era 38 mi quindi questa era 25 e 68 meno 26 se qua e quindi qua ci mettiamo l'ultimo figlio di puttana il bimbo nutella funzionato statua di merda papà tuo padre è morto è vivo ma forse il nonno gli è morto una foto così per sicurezza mi devo facciare si sta prendo ci chiese e che se di chiese di chiese di chiese porto mondo bastardo cazzo le cuffie non funziona signori dopo 64 anni ce l'abbiamo fatta sono fiero di me stesso grazie dell'aiuto brother ti giuro non ci avrei mai arrivato una cosa del genere se io pensavo tutt'altro ma non immaginavo di fare cadizioni sottrazione per aprire un muro di merda che poi aveva il martello aveva una marteggata lo buttavi per terra comunque tarappa siamo dentro ma è noto non entrerò lì dentro senza luce sei uno stronzo fai così hai la portata non c'entro manco per il cazzo hai ragione luca siamo d'accordo su una cosa no no trovato la centina lo so cos'è equipaggio dai ti prego dai non si può non può diventare così no sono impronte delle mani è solo quello che ti preoccupa di chiosti puttana ma senti non c'era sì 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 ma preso l'ho preso orco da mamma mia ero i coglioni bannate mi molesta basta le impronte sui muri senti tenetevi fotte delle impronte sui muri vai avanti avanti cazzo ti interessa delle impronte sui muri è solo quello il problema no che c'è satana qua minchia non mi dire che è un labirinto mi ero i coglioni gioco di merda sì questo è un me sa che è un labirinto qua non usciremo mai da qui lo so però che a caso cominciamo ad arrivare a qualche parte non è impossibile ma domino grazie del foglio asciugamano hai ragione che se c'era una luce di merda no qua siamo destra o sinistra cento porto via porca puttana raga ma cos'è ma cos'era ma cos'era dai se lei era qui io vado decisamente a destra non sa che qua e ora c'ho il minchia dai ora mi dà l'ansia pure ad accendere di nuovo l'accendino incollezionabile del cazzo non me ne fotte niente porco tuo padre è morto madonna mia raga ma che cazzo di gioco è non vedo un cazzo luca mi raccomando che ha l'ansia di stare in questo posto allora da giudicare dalla fotografia non si vede un cazzo presumo di dover tornare indietro se c'è la porta da sola della mia stanza dai raga queste pippe mentali la figlia l'asciugamano sono dall'altra parte tuo padre e che baguette deve esplodere nella più grande merda ti prego detto vado minchia mi compare ora no ora no ora ora portosi suca ero più preparato riaccendere dai non fare così personaggio svolta è bruttissimo prego non fare così dai raga se mi si spe raga noi ci rediamo conto di quello che stiamo giocando giusto molto bello io vado dove è andata lei no ovviamente mi sembra la scelta più dirigente minchia penso che devo andare lì dove porta sta cosa prego non ce la faccio a continuare così io ho bisogno di luce non male che ci sono ste pedane ma se mi compare di nuovo quel personaggio che inizia a fa sto respiro così di merda vai vai di qua vai di qua le luce tua madre è una grandissima pull una grandissima guarda lei va perché devo seguirla signora signora lei non può camminare nuda in casa noi non l'accendo tanto ci vedo io devo uscire va vero no volevo farci il campeggio qua dai vaffanculo ragazzi sono cacato pure non la volevo accendere apposta non ci possiamo salutare raga continuiamo domani poi tutte queste croce al contrario non è che va non ha niente di cristiano qua niente di cattolico non vedo un cazzo signora perché non mi uccide la facciamo finita ma ma sono in un cimitero bella casa che aveva il nonno la vera luca ti prego ok bella casa il nonno bella accogliente venivano gli amici a fare serata suonava il campanile tutti erano pieni di gioia non vedevano l'ora di stappare la sambur come mai me lo chiedo anch'io luca probabilmente otto si giocato tononno era cretino due sono le opzioni scegli tu ai robi bello mi era l'alert minchia io dicevo minchia cosa cazzo è successo qua sei che ormai gli alert ragazzi sono il minimo nel suo gioco di giuro appena vedo chi suona ste campane a meno che non siano automatiche cosa che non penso data l'epoca ti giuro ritiro ma scusa ma arrivano da sottoterra quanto minchia è grande sto cotterra che mi esce dei ringhi ora sono morto sono vivo come sei finito qui sei drogato sei drogato cosa c'è scritto qua leggi tutto la cattedrale di staminchia che è stato fermato da sd la cattedrale di staminchia ovvero la chiesa degli orrori la cattedrale di staminchia sta finalmente chiudendo i battenti dopo lunghi anni di incul la mancanza di persone responsabili delle istituzioni il governo ha deciso di inculare jackson ed è il momento di porre fine ai suoi servizi secondo il rapporto dei residenti della zona la cattedrale di staminchia è in un completo stato di abbandono e l'annuncio del governo vabbè in teoria siamo sulla chiesa di staminchia ed è tutta abbandonata e noi ci siamo qua come non lo so manca manca manca